Da tifoso, cosa devo dire? Amo Icardi e tutti gli altri che giocano nella stessa squadra, cosa volete che vi dico? Si può recuperare? Assolutamente, si può recuperare con lui, poi Beccalossi, Altobelli, più ne recuperiamo meglio stiamo, figuriamoci. Da tifoso uno non può dare una risposta razionale a queste questioni, si ama o si odia e quando si ama si ama e basta. Dunque, da quel punto di vista e quando si ama si perdona tutto, ovviamente. Da presidente della FIFA, senza parlare del caso specifico, ma più in generale, giustamente stiamo studiando una revisione al regolamento dei procuratori, degli agenti, perché pensiamo che una regolata, questo regolamento vada data sicuramente. Oggi, come oggi, solo di trasferimenti c'è un flusso economico di 8 miliardi l'anno internazionale sui trasferimenti, senza parlare degli stipendi dei calciatori. Le persone che si occupano di questo business, mi sembrerebbe giusto che la loro professione sia regolata in modo chiaro, molto più chiaro di quello che non lo è oggi. Tutte le altre professioni in Italia, in Europa, nel mondo sono regolate, questa non lo è, o non come dovrebbero gli agenti o i procuratori e anche i trasferimenti più in generale. Se guardiamo, per esempio, quello che succede negli Stati Uniti, che spesso vengono presi ad esempio, negli Stati Uniti che è la patria del libero mercato, di ognuno fa quello che vuole, tutto aperto, eccetera, queste professioni e queste attività sono regolamentate in una maniera incredibile. Ci sono dei libroni così che regolano le attività dei agenti, i trasferimenti, i cambi di società, eccetera. Dunque, penso che noi con i nostri quadernetti in Europa e in FIFA abbiamo ancora un po' di lavoro da fare. Ne parliamo con tutti, ne parliamo con i procuratori, con i calciatori, con le società, con le leghe, con le federazioni e cerchiamo di proporre qualcosa, entro quest'anno sicuramente proporremo delle misure per regolamentare l'attività a tutela, per finire, di tutti, dei calciatori, delle società, dei procuratori stessi.